la grande raccolta punti con l'usato continua dal 23 al 25 marzo i tre giorni di follia sono l'occasione per raddoppiare i punti sui tuoi acquisti per ogni euro speso guadagni due punti sulla mercatino card fino al 31 luglio ogni mille punti ricevi un buono acquisto da 10 euro richiedi gratuitamente la mercatino card e raddoppia i punti su ogni acquisto per informazioni mercatinousato.com Grazie